La scena che ho vinto, che ho vinto da sempre. Grande performance è successo ieri sera presso la Chiesa di Gesù e Maria che ha ospitato anche in questa occasione un coinvolgente concerto. Questa volta ad esibirsi il concerto dell'orchestra da camera della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti, diretta dal maestro Carmen Battiante, un percorso musicale dalla passione alla resurrezione. Il programma ha visto arie tratte da Bach, dalla passione secondo Matteo per violino e violoncello solisti, Andel da Rinaldo per Gulesi, dallo Stabat Mater dolorosa per soprano e mezzo soprano solisti, a Vivaldi sinfonia in si minore, a Santo Sepolcro e Gloria Coro per soprano e mezzo soprano solisti. L'assemble dell'orchestra da camera della Fondazione Musicalia, composta dal coro polifonico dell'Accademia Musicale Andrea Scenier di Foggia, ai dai solisti in unzia alla forgia soprano, Maria Arcangela Tenace e mezzo soprano, Laura Aprile violino e Daniele Miatto violoncello, diretti appunto dal maestro Carmen Battiante. Canta la partecipazione presso l'accogliente parrocchia di Gesù e Maria, molto attenta a queste tematiche. Aplausos 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 Aplausos